Si ricomincia il secondo tempo tra Baia Rassi e Bonzoli sul risultato di 1 a 1. Grazie per la visione! E' un risultato di 1 a 1. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! 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 è sempre uno spettacolo bravo Riata grazie a voi a casa che spiega come ha detto ha provato a prenderla entra in area oggi Kiko sta facendo un compito il 7 grande rialzo non andare là tesoro vai via peccato vai via guarda che spiega vai via 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 Trago Griffi! C'è anche un quattro alla bocciofia. Giampi! Giampi! C'è anche un pallone del quattro di sotto nella bocciofia. Poi lo andiamo a prendere. Bravo! E' un po' che si chiamano il corriso! E' un po' che si chiamano la vita! E' un po' che si prende l'amore. E' un po' che si prende l'amore! Si mette le protesto... ...e' un po' che si chiamano le pezzi a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un momento così. Grazie a tutti. 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 Vai, 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 vai. Grazie a tutti. 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 , a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 a tutti.